Vieni, via, fici! Chiaramente il cliente deve arrivare con la mascherina perché questa è la regola generale diciamo nell'ambito della nostra regione. All'interno della regione noi, pur non avendo l'obbligo, prendiamo la temperatura e facciamo uno screening diciamo cartaceo nel quale chiediamo al cliente se ha avuto contatti con malattie di covid eccetera eccetera, se ha avuto sintomi. Lo riempie solo la prima volta ma chiediamo l'obbligo chiaramente di comunicarci eventualmente se fossero variazioni diciamo di comunicarcelo. Chiaramente vengono immediatamente disinfettate le mani all'inizio e poi si accede agli spogliatoi. Abbiamo chiesto a tutti i nostri clienti che abitano in zona chiaramente di venire già vestiti abbiamo lasciato l'uso degli spogliatoi esclusivamente alle persone magari che lavorano e durante la pausa pranzo sono costretti in qualche maniera poi a rifare la doccia. Ogni locale chiaramente ha diciamo prodotti per disinfettare quindi c'è l'obbligo di disinfettare tutti gli oggetti che vengono toccati. Le lezioni sono tutte su prenotazione quindi garantiamo le misure che sono per le attività due metri testa a testa quindi sono quattro metri quadri nelle sale fitness sette metri quadri nell'ambito della piscina nell'ambito dell'acqua quindi abbiamo ridotto le lezioni a 50 minuti in maniera che dieci minuti diamo la possibilità al nostro personale di entrare e disinfettare diciamo i pavimenti e le superfici maggiormente a contatto c'è l'obbligo di prenotazione tutte le nostre attività devono essere prenotate abbiamo preferito una prenotazione telefonica perché questo ci consente anche di trasmettere ai nostri clienti quali sono le necessità quali sono gli obblighi anziché una prenotazione online che sarebbe molto pratica ma probabilmente non ci consentirebbe di spiegare quindi riduciamo molto i tempi all'ingresso la prima volta perché il nostro cliente è già informato su tutte le sue modalità. avevamo immediatamente comunicato indipendentemente dagli obblighi di legge che avremmo fatto recuperare completamente tutto senza problemi chi non se la sente può tranquillamente riniziare a settembre recupererà tutto quello che è stato fermo per covid più quello di quest'estate quindi diciamo li abbiamo messi in una condizione di totale anche garanzia per quello che hanno speso quello che già ci hanno dato.